eccoci eccoci che ci siamo ero un po preso a spippolare instagram perché ero in diretta su instagram per ricordare a tutti gli amici pollicioni verdi di partecipare alla diretta al live al besprato live show puntata numero non mi ricordo più 227 credo che siamo arrivati questa sera è la puntata dedicata a voi no la puntata nella quale affrontiamo i problemi del mese i problemi che al prato nella stagione in cui ci troviamo nella particolare stagione in cui ci troviamo e daremo spazio a tutte le vostre domande io ho anche alcune vostre domande che sono già arrivate ma preferirei rispondere a tutte le domande in diretta che fate voi che siete collegati adesso via facebook e anche voi soprattutto voi che siete collegati siete iscritti al canale youtube prima di partire facciamo qualche comunicazione facciamo passare solo un minuto non di più primo alla prima cosa che dobbiamo dire facciamo il doveroso tributo intanto fatemi sapere se si sente bene perché la scorsa diretta abbiamo avuto tanti problemi con l'audio spero che invece sia tutto ok quindi aspetto un piccolo cenno allora nell'attesa del cenno facciamo un doveroso tributo ai nostri sponsor di questa sera del besprato live show a filo d'erba il libro sul tappeto erboso più venduto in italia dal giorno della sua uscita dicembre del 2018 a filo d'erba poi il secondo sponsor besprato academy planner lo strumento applicativo del metodo besprato per avere un prato sano forte bello il libro e l'academy planner lo trovi nella nel nel nostro store ed infine andiamo a il terzo sponsor è la besprato academy la nuova scuola di formazione sul prato e sul giardino online da qualche mese da un paio di mesi e online già il primo corso dell'academy planner dedicato alla semina di un prato il corso più completo per imparare i segreti dei migliori giardinieri per seminare a regola d'arte un prano un prato sano forte bello 12 moduli due ore e mezza di corso con video in alta risoluzione del sottoscritto oltre 100 pdf scaricabili se ti interessa se devi ancora seminare il prato corri immediatamente e vai a dare un'occhiata su www.bespratoacademy.com bene abbiamo fatto il giro degli sponsor ho diversi feedback che mi fanno sapere che l'audio tutto ok e adesso apriamo le credanze perché aspetto le vostre domande nell'attesa delle vostre domande già qualche d'uno la vedo intanto magari rispondiamo a una domanda che è arrivata ancora prima di partire con questa diretta da parte di alessio malaspina mettiamolo anche insomma impressione il quale ha fatto dei trattamenti con il tricoderma il pseudomonas e streptomyces quei trattamenti che servono da una parte a creare la protezione delle malattie dall'altra parte a indurre a stimolare l'apparato radicale a fortificarsi e nella sua domanda mi chiede quando ridare il tricoderma io rispondo molto semplicemente a te alessio che il tricoderma è un trattamento che va ripetuto diverse volte durante l'anno è un po la frequenza dipende da quanta protezione tu vuoi creare attraverso questo sistema o meglio più di una volta al mese non serve si può fare anche una volta ogni mese mezzo due mesi ma ti ripeto è un qualcosa che è lasciato alla propria responsabilità io personalmente faccio proprio una volta ogni 6 5 6 settimane fino alla stagione estiva poi cambio vado su un prodotto come resistente ad alte temperature come il bacillus sutilis e poi ritorno a fare due trattamenti in autunno e poco prima dell'inverno nel frattempo che cosa fare mi chiedi beh nel mentre ci sei tutta una serie di operazioni dipende da che cosa stai cercando cioè da cosa vuoi fare nel mentre se vuoi aumentare la protezione delle malattie il mio consiglio è quello di fare un trattamento di induzione alla resistenza ad esempio con il fosfito di potassio scusa con il ferro e il rame il fosfito di potassio ormai mi viene sempre tra le labbra e vi ricordo intanto vedo che stanno arrivando molte interessantissime domande quindi direi di partire alla grande vi ricordo che nella descrizione di questo video troverai due approfondimenti uno dedicato proprio alle risposte sui problemi più comuni vedremo se alcune delle domande che voi fate sono già risposte in quell'articolo magari vi rimanderò a quell'articolo e nella descrizione di questo video troverai anche il riepidolo dei lavori da fare ad aprile un aprile particolare ne parleremo tra un attimo però come sapete ci tengo molto di più in queste serate a rispondere a tutte le vostre domande quindi passiamo subito alla domanda successiva la domanda di giampi ciao fabio ho concimato con sprintenne una settimana fa domani dovrei tagliare l'erba ma ho paura di aspirare con il tosa erba i granuli cosa mi consigli allora se il concime è arrivato a terra e segui il metodo best prato cioè di fare un taglio sui 5 6 7 centimetri non ti devi preoccupare il problema è se anche tu come me hai un prato molto fitto molto denso nel quale quando distribuisci il concime i granellini rimangono un po sollevati e allora sai cosa faccio io ho due tecniche che ti voglio diciamo così suggerire suggerire la prima una un po più elaborata quando veramente grande questo problema ho un asse di legno a cui ho piantato due chiodi in un certo punto e con una corda ho legato quest'asse sui due chiodi e la trascino nel prato in pratica è un asse che va a colpire no a schiacciare i fili d'erba e fa arrivare i granuli in profondità un'altra tecnica un po più casereccia è quella di utilizzare la gomma dell'acqua praticamente questo lo si fa magari in due la si trascina a livello del terreno in maniera tale da scuotere no l'erba in maniera tale che i granellini arrivano in profondità dopodiché tu sai che subito dopo una concimazione andrebbe fatto una leggera irrigazione e anche la stessa leggera irrigazione porta il prodotto in profondità si possono anche utilizzare dei rulli chi ha le reti canestone tutti questi tipi di prodotti però insomma ci si può anche organizzare in maniera estremamente più semplici molti di voi mi hanno chiesto dell'academy planner vi faccio un inciso adesso l'academy planner e le ultime copie sono ancora disponibili soldi esclusivamente nello store di vesprato quindi va in www.vesprato.com digit academy planner ti viene fuori il link andiamo avanti vediamo francesco ho un tappeto erboso stupendo siamo stra felici per te grazie a te a botos wow giada è una meraviglia sabato ho rigenerato qualche diradamento ma avevo concimato i primi di marzo con sprint n una bomba di concime sto tagliando ogni tre giorni giù in sicilia abbiamo toccato i 23 gradi sì sì lo sprint n e il concime tra le altre cose che suggerisco di utilizzare anche adesso in questo aprile che iniziato un po strano abbiamo avuto degli abbassamenti di temperatura nei giorni scorsi probabilmente adesso torneranno ad alzarsi una primavera decisamente titubante quest'anno a parte alcune fortunate regioni io non so voi ma io personalmente sono in ritardo con moltissimi lavori e probabilmente alcuni anche mi saltano proprio perché ho dovuto attendere adesso qua ad esempio al nord non ci sono quasi ancora le condizioni per la germinazione della festuca rodinacea però ne parleremo vediamo se c'è qualche domanda relativamente a questi temi ciao fabio fallimento totale quest'anno causa siccità evento prato pieno di poa annua come si può fare per salvare il salvabile ai 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 carmine allora diciamo subito che per chi non conosce la poa annua facciamola vedere cioè allora io ho attivato un po avevo anche preparato un po di strumenti no perché 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 andiamo qui nel blog di besprato se non sapete raggiungere il blog di besprato basta digitare www.besprato.com no questa è la home page di di besprato qua sulla destra questo qui che vedete questo pulsantino blog ci cliccate no e qui nel motore di ricerca molto spesso basta semplicemente scrivere dei termini così per avere per trovare in maniera molto facile la l'argomento cercato eccola qua allora qui si vede molto bene in questa immagine qui vediamo se riesco aprire un'altra scheda andiamo eccola qua no questa è la poa annua e questo sta facendo riferimento carmina poa annua è un bel problema è un bel problema perché si tratta di una graminacea per la quale non esistono neanche dei prodotti chimici per debellarla e non lo dico così per diciamo così colpevolizzare coloro i quali utilizzano i prodotti chimici ma per dirvi che il controllo della poa annua è veramente complicato da fare quando lei è arrivata il motivo è che produce una quantità di semi paurosa migliaia e migliaia di semi piccolissimi che si producono anche quando la poa è molto po annua è molto bassa e quest'anno ci sono state soprattutto per questo inverno e questo non arrivo della primavera ci sono state le condizioni in cui avviene la germinazione perché germina praticamente germina tutto l'anno riesce a germinare anche nella parte freddina della fine dell'inverno che cosa si può fare per controllare allora prima di rispondere a carmine che ha un problema significativo se non ti vuoi ritrovare nella situazione di carmine devi assolutamente riuscire a prevenire questa situazione e per prevenire questa situazione bisogna creare un prato super mega denso e fitto e va mantenuto parecchio alto questa maniera quando arrivano anche i semini portati del vento ok e germinano non trovano la luce perché il prato è talmente alto e fa competizione che fanno veramente tanta fatica ogni tanto ne vedi qualche dunia la prima cosa che devi fare è fare dei controlli continui no per andare a toglierle mi raccomando pollicioni fatelo sempre quello del controllo costante delle infestanti nel prato e l'estirpazione con un coltellino a mano questa è la tecnica che vi assicuro che con il tempo riesce a creare un sistema virtuoso il mio prato è libero dall'infestante ogni tanto zac appare se vi ritrovate tipicamente la poa annua concentrata oppure la poa trivialis quei ciuffi molto chiari no che adesso li notate perché fanno un contrasto pazzesco quello che si può fare è quello di andare a togliere completamente quella zona si può scavare proprio cioè togliere la zolla incidendo e togliendola estirpandola completamente con tutto l'apparato radicale oppure utilizzando un diserbante per andare a seccare e poi andare via a togliere tutto quanto stendere un po di terice andare a fare una risemina localizzata nel nel carmine nel nel blog di besprato vediamo se riesco a farlo vedere c'è un interessantissimo credo articolo a parte che c'è appunto questo come eliminare la poa annua dedicato alla germinazione alla risemina localizzata l'articolo si intitola ve lo faccio vedere qua un po più in grande è questo come riseminare piccole zone rovinate del prato utilizzando l'impasto del metodo besprato in altre parole si tratta di utilizzare di andare ad utilizzare un impasto che qui vediamo raffigurato che è fatto di del terriccio del concime e dei semi che vengono poi distribuiti in maniera semplice nelle nelle zone che abbiamo preventivamente diserbato ok bene direi di passare ad altra domanda ciao intanto saluto un po di amici sian vediamo un po allora buon grazie ragazzi vedo tanti consigli tanti complimenti fatemi le domande fatemi le domande ciao ciao furlan ciao daniele a te benissimo allora sembra che allora eccoci qua dunque vediamo questa domanda di antonio scusate ho fatto un po di difficoltà a trovarne il 30 marzo ho effettuato una risemina dopo quanti giorni posso dare il tricoderma cioè antonio ha fatto la semina e si chiede quando può iniziare a fare i trattamenti di prevenzione delle malattie allora devi sapere che il seme un prato difficilmente fino diciamo al primo taglio si ammala perché ha una sorta soprattutto quando si seguono sementi buona una sorta di auto protezione per la sua vita e quindi solitamente il mio consiglio è quello di attendere il primo taglio secondo taglio del prato e poi procedere con un bel trattamento di 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 antagonismo microbico con il tricoderma michael michael vertozzi buonasera io un prato con molte infestanti come trifoglio poannua e altre mi consigliate di fare resatura ormai a settembre e potrei e potrebbe aiutarmi ad eliminarle beh la riesatura in sé per sé non elimina le infestanti le infestanti in particolar modo poannua l'ho appena spiegato non michael per quanto riguarda invece il trifoglio anche qui bisognerebbe fare un mix si possono utilizzare per chi li io non li utilizzo e non li consiglio perché secondo me i prodotti chimici secondo me utilizzare la chimica è mettersi dalla parte sbagliata della storia però non non faccio il talebano ci sono dei prodotti a pronto uso che sono anche abbastanza una volta anche il privato poteva utilizzare il principio attivo e si inquinava l'ambiente in maniera pazzesca adesso con i prodotti a pronto uso sono già miscelati nelle giuste quantità e quindi diciamo c'è un po più ecco di 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 controllo dell'effetto inquinante non di quello tossico perché quando utilizzi questi prodotti devi sempre stare molto attento quindi per le dicotiledoni si possono utilizzare questi prodotti ma il metodo best prato semplicemente è quello di fare stirpazione manuale iniziare a mantenere il prato parecchio alto soprattutto se hai trifoglio ad esempio lo tieni anche a 8 addirittura a 9 centimetri se il tagliarebbe arriva ma devi sfalciarlo due volte a settimana in questa maniera dovresti riuscire a intercettare le foglie del trifoglio e man mano indebolirlo poi il trifoglio anche semplice da pizzicare da togliere è vero che sei molto diffuso a quel punto lì allora sì ti conviene aspettare settembre fare dei tagli bassi e fare delle risemine di compattazione ok però la prima strategia che ti ho detto la puoi mettere in atto subito senza problemi ciao tommaso se per varie vicissitudini ci chiede tommaso non avessi ancora traseminato posso dare sprint n e rimandare poi la trassemina tra un paio di settimane senza sveltrimento allora tommaso due no allora punto primo se puoi falla subito la trassemina perché fare la trassemina a fine aprile diciamo è possibilissimo io l'ho fatta però l'arrivo delle infestanti estive è quasi automatico quindi digitare settaria poi bisogna veramente come dire poi insomma è complicato combattere però si riesce per l'amor di dio cosa ho fatto qui ho schiacciato qualcosa di sbagliato per quanto riguarda lo sprint n no no perché poi quando rifai fai la trassemina ti trovi un concime un po sbagliato se la rifai se la trassemina riesce ad esempio anticiparla tra due settimane entra con un liquido entra con un prodotto diamolo a vedere tipo che ne so vediamo un po facciamo così ecco qua così si vede mi vedete anche me non mi lascio solo i soletti andiamo in www.besprato.com un prodotto che io consiglio che ti consiglio è un prodotto liquido come questo si chiama green up in questo caso è un prodotto della botos ce ne sono anche di altre marche per l'amor di dio cosa ha la caratteristica di essere un prodotto liquido o meglio ancora nel tuo caso potresti dare help guarda anzi è meglio dare help che è sempre un prodotto della botos ma è più bilanciato questo tipo di prodotto che viene distribuito con una pompa a spalla come vedi ha sia l'azoto è formato sia da azoto ureico azoto ammoniacale azoto nitrico anche un po all'interno di ferro e ha comunque una presenza vedi dal titolo di fosforo e di potassio e quindi è abbastanza bilanciato questo dura circa un paio di settimane o una domanda finalmente da facebook dagli amici di facebook a proposito pollicioni pollicioni aspetto un mi piace a questi video a queste dirette aspetto la condivisione aspetti mi piace per te per voi è un piccolo gesto è un click adesso devi solo farli così ma per noi molto importante ti assicuro ciao a tutti io oggi ho dato il tricoderma grande alberto insieme alle alghe brune grandissimo alberto quando posso rifare la trassemina dato che la prima che la prima causa freddo è andata immagino in malora e guarda io adesso consiglio di non aspettare cioè di non aspettare troppo quindi alberto mi verrebbe da dirti se devi rifarla perché proprio è fallita e allora la vuoi tecnicamente rifare e la rifai comunque a distanza di quattro settimane perché devi vedere comunque se se germina quella precedente e dopo di che falla questo weekend adesso dicono che dopo questa coda dovrebbe arrivare l'anticiclone e quindi stabilirsi un po meglio a livello dell'italia e alzare le temperature un'altra domanda da 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 facebook allora vedo pochi mi piace ragazzi qua solo 13 mi piace mi dice qui la direttore chiudo la diretta o il mi piace vale per gli amici di youtube e vale anche per facebook non bisognerebbe mai chiedere queste cose però io lo faccio fabio e escrementi di gatti randaggi in giardino che posso fare per tenere distanti è un casino io sono un gattaro o due gatti o anche avevo anche i gatti randaggi devo essere sincero sono riuscito a farli andare via ci sono due tecniche la prima è spaventare spaventare i gatti senza tirarli con lo schioppo però ad esempio con dei con una tromba da stadio quando lo becchi gli tiri due trombate di questo tipo qui e dopo di che lui cambia tragitto perché non è stupido il secondo è io non ho utilizzato questo sistema ma io non so se è stato questo non lo so ma siccome sapevo dove passavano i gatti che facevano i loro bisogni come nel tuo caso nelle zone vicino piazzato dei piattini all'interno dei piattini non ho messo veleno ragazzi non scherziamo ma ho messo questo queste palline di disabituanti in gel io non so se sono state le palline non so se è stata la fortuna non so non so che cosa però adesso io i gatti randaggi non mi passano più in quella zona del giardino ma li ho visti passare da un'altra parte quindi puoi provare io non ti posso garantire però giovanni ciao maestro ciao a te ho seminato dieci giorni fa con royal blend dovrebbe essere germinato è quello concimato con bio star dopo quando devo riconcimare con sprint n grazie come sempre sei un grande allora la concimazione del bio star tiene in considerazione che dura due tre settimane con il royal blend in risemina e in semina nuova un po di più quindi direi che tra dieci giorni dovresti intervenire di nuovo però giovanni puoi decidere di utilizzare un concime come sprint n che però sai che da una bella spinta ma diciamo verso fine aprile potrebbe non andare bene perché potrebbe essere necessario avere un concime un po più bilanciato con lo sprint n gli stai dando un'altra bella botta se hai bisogno di una botta di ricrescita di un recupero del prato vai a dare lo sprint n siccome comunque a me non piace parlare di concimi con i nomi delle case lo sprint n è un prodotto della botos no però possiamo andare a utilizzare anche degli altri prodotti no che cosa possiamo andare a utilizzare andiamo a vedere le caratteristiche sia dello sprint n sia dell'alternativa lo sprint n che cos'è è un concime che ha un titolo molto molto alto ok molto molto altra e ha dalla sua una buona cosa che non ha fosforo ok al 52 per cento di azoto a lenta cessione e quindi il 48 per cento a pronto effetto azoto andiamolo a vedere ammoniacale il ben il 5,5 per cento significa che gli dà una forte spinta allora nel tuo caso giovanni probabilmente potresti se è arrivato il caldo andare utilizzare una concimazione tipo quella che si fa poco prima dell'inverno con un prodotto come questo questo è l'autun key è un prodotto come vedi sempre con un alto titolo di azoto però anche un bel po di potassio ma la caratteristica è che l'azoto è totalmente a cessione programmata quindi la strategia qual è la strategia è quella di dire se il tuo prato ai primi tagli noti che ha bisogno di una spinta vegetativa utilizzi lo sprint n quindi un azoto 50 per cento ammoniacale 50 per cento 50 per cento con una frazione importante a pronto effetto che anche l'azoto ureico e a pronto effetto va considerato tale e l'altra parte a lenta cessione se invece sta arrivando il caldo tu sai che lì con il caldo se dai l'azoto a pronto effetto rischi di bruciare il prato in quei giorni quindi magari switch in quella con un prodotto tipo l'autun key insomma che abbia un prodotto anche di altre brand anche di altre marche io vi dico quelli che utilizzo io e che sono sicuro di consigliare perché come dice uno dei miei mentori che saluto federico tuberga un agronomo bravissimo la prima regola di un bravo pollicione verde la prima regola che bisogna applicare nel prato è quella di utilizzare dei prodotti che non fanno danni che non fanno danni buonasera enrico arieggiato e riseminato con festuca rondinacea impurezza royal strong un prodotto che troverete nella storia di best prato già fatto due tagli e concimazioni varie purtroppo stai iniziando a spuntare la po annua come gestire la situazione il prato in linea di massima anche belle foto di un bel verde ecco posso darti un consiglio spassionato estirpazione manuale prendi un coltellino non c'ho qua quello mio da punta però va bene anche questo incidi a devi aprire la po annua fa così va giù e poi si piega e lì c'è l'apparato radicale quindi devi cercare la figata è che quando arrivi lì se muovi un po il terreno ti viene via che è una libidine toglierla perché ti viene ti viene da dire ti è cornuta e lo fai lo fai dieci minuti al giorno per 45 giorni fine finita non c'è allora stefano sono ancora in tempo per seminare una parte di giardino se si taglio basso il resto 60 ma sì sì certo che sei ancora in tempo per quale motivo siamo all'inizio di aprile adesso le temperature si innalzano è chiaro che se mi fate le risemine a fine aprile dovete mettere in conto l'arrivo delle infestanti estive tra le altre cose guardate ne parleremo magari verso fine aprile per certi aspetti per certi aspetti è meglio fare la risemina a fine maggio che non a fine aprile cioè iniziare la semina a fine aprile quindi se la fate adesso va bene la fatta a metà aprile va bene se la fate la terza settimana di aprile va bene ancora però dovete sapere comunque che facendo le semine in primavera in qualsiasi periodo ti arrivano le infestanti che possono essere di un tipo o di un altro tipo però ragazzi non fare una risemina lasciare un prato diradato non va mica bene cioè le infestanti ti arrivano comunque quindi tanto vale anzi non tanto vale è molto meglio fare la semina cos'è il bio pse francesco buonasera e da tanto che manco dal canale aiaiaiaiaiai allora bio pse è una figata no è un prodotto che abbiamo creato in vesprato con la collaborazione da una parte della botossa in fase iniziale per la strutturazione poi con la ingrain safe con un laboratorio ed è un prodotto ad altissima concentrazione 10 alla 9 quindi un miliardo per grammo di unità formative colonie di cosa di pseudomonas streptomyces batteri e funghi promotori della crescita è una botta di potenza di sviluppo dell'apparato radicale ma da punto di tipo biotico ma anche delle capacità fungistatiche antibiotiche la stretto micina dello stretto mices è un potente alleato alla protezione delle malattie è un prodotto che va a completare diciamo così tutte le armi a nostra disposizione per combattere le le malattie fungine e tra le altre questo è un prodotto il bio pse te lo ve lo faccio vedere che trovate solo ed esclusivamente in vesprato non esistono non esiste in altra parte con questo formulato e tra le altre cose l'abbiamo fatto quest'anno anche in due confezioni non è un prodotto economicissimo però avete abbiamo fatto anche la confezione da 250 che visto i dosaggi che viene utilizzata guardate 25 grammi 30 grammi per 100 metri quadri di prato hai capito che comunque insomma se andiamo a fare è veramente molto basso ciao fabio le micorizze in polvere possono affiorare sopra il terreno dopo qualche settimana dall'impianto non capisco bene la domanda cioè se se le le micorizze in polvere vanno mescolate al terriccio quindi va fatto in modo che intercettino le radici questo è il concetto ok diamo avanti ciao mario ho fatto tutto dal programma e premetto che il mio prato sta benissimo sabato ho trattato con always pensi che sia il caso di fare pure shield assolutamente sì guardate che la capacità che hanno i trattamenti in induzione alla resistenza di creare un ambiente di protezione potentissima contro le malattie è veramente estremamente alto cioè un sistema ad altissima prestazione ciao cristiano risseminato il 26 marzo a udine ma con calo di temperature non ha germinato niente ho speranze dunque siamo l'undici più 4 15 giorni secondo me si mantieni umido e allora il tempo di vita utile allora che cosa succede tecnicamente se le sementi non vengono a contatto con l'acqua il potere di germinazione rimane nel momento in cui invece vengono a contatto con l'acqua il periodo di germinazione oltre il quale diciamo il seme perde il proprio interno la capacità di germinazione diciamo in maniera banale marcisce varia varia a seconda di quanta umidità assorbito però diciamo che se non è germinato nulla dopo tre settimane e hai mantenuto il seme umido probabilmente quel seme è perso allora siccome udine a 40 chilometri da qui e conosco il metro che c'è stato io ho messo giù le sementi sabato potevo mettere sarebbe stato meglio metterle giù oggi perché è previsto con mercoledì e giovedì un innalzamento della temperatura per quanto ti riguarda secondo me se la prossima settimana non è germinato nulla è il royal strong il royal strong potrebbe potresti aver perso ok però insomma dai incrociamo le dita su alessandro seminato due settimane fa è tagliato il prato a tre centimetri oggi il vecchio prato è molto alto mentre i semi sono germinati da solo qualche giorno posso entrare e a tagliare o aspetto allora dipende da quanto alto è arrivato il prato esistente allora io solitamente lascio allora tu puoi entrare a tagliare se i fili sono molto fini e il prato ha meno di due o tre settimane il rischio è quello che passandoci sopra con le ruote tu list li strappi perché avranno un apparato radicale di di un centimetro ok non è tanto problema lo schiacciarli anche sì e va messo in conto perché se comunque tu hai il prato esistente che è arrivato a 12 centimetri che secondo me il massimo in assoluto che lo puoi lasciare bisogna entrare quindi magari in maniera estremamente delicata entri camminando io mi ricordo una volta che mettevo le scarpe piatte sotto le adidas non quelle coi tacchi perché avevo paura dei tacchi quindi le adidas che distribuivano c'erano lisce sotto distribuivano addirittura se avessi le clark sarebbe ancora meglio avete presenti no o una scarpa che abbia la superficie più piana possibile in maniera tale da distribuire il peso è un tagliaerba leggero il più leggero possibile ciao gianluca trasseminato inizio aprile inizio maggio dopo primo taglio posso dare help always shield e aggiungo solo ok allora gianluca sta praticamente applicando molto bene quelli che sono i dettami i pilastri del metodo besprato cioè dopo i primi tagli ci fanno dei trattamenti di stimolazione con gli acidi umici e idrolizzati proteici prodotto che lui cita è l'always prodotto che troverete anche nella storia di besprato e fa anche una piccola concimazione giustamente di transizione per poi poter dare un concime un po più estivo un po più avanti ti dico gianluca potresti anche inizio maggio fare quei due trattamenti ok molto bene anche con l'induttore di resistenza lo shield e poi anche a metà maggio non aspettare giugno con lo slow key non aspettare troppo avanti anche verso la terza seconda terza settimana di maggio entrare con una concimazione potassica ciao fabio ho fatto arieggiatura e ri semine concimato con royal start 20 giorni fa quando sembrava arrivare la primavera poi arrivato di nuovo il freddo alcuni semi stanno ancora germinato altri penso siano morte posso dare altri semi continuare a tenere umido e poi tra una decina di giorni do sprintenne e guarda io cioè affinché i semi le sementi prendano cioè la trafila la dovresti fare tutta no quindi dovresti stendere un po di terriccio mettere le sementi nuove rullare per metterle a contatto e mantenere costantemente umido per l'amor di dio se i punti dove non è germinato sono estremamente ampi mi viene da dire anche di sì magari puoi utilizzare l'impasto che che troverai vai nel blog che ho fatto vedere prima digita impasto metodo bestrato io lo cerco così ormai lo cerco così e ti viene fuori l'approfondimento leonardo t buonasera volevo dare sprintenne in fine settimane vai il rigato subito dopo e quanto vigor e micopower si possono dare dopo o prima quanto quando immagino allora sprintenne va bene col micopower allora micopower vigor liquid da mio punto di vista prima possibile perché perché le micorizze impiegano tre settimane due settimane a colonizzare l'apparato radicale quindi dagliele dagliele non aspettare tra le altre cose l'ammendatura si fa prima della concimazione quindi dalle oggi domani dopodiché la concimazione da un punto di vista teorico la potresti fare anche subito dopo ok quindi non c'è un problema di questo tipo certo l'interazione massima avviene quando la concimazione trova un terreno bene ammendato e quindi con una capacità di scambio cationico corretta per questo motivo prima le ammendature e dopo le concimazioni minerali per quanto riguarda l'irrigazione lo sprintenne ha una parte a lento rilascio che non è controllata dall'acqua ma bensì dalla dalla temperatura e dalla differenza osmotica quindi quella parte non necessita di irrigazione ma il fosforo presente sotto come sale e la parte ammoniacale e ureica all'interno del concime ha bisogno dell'acqua quindi dopo aver dato il concime un giro di irrigatori non basta bagnare un po cinque minuti dieci minuti al massimo insomma magari sempre meglio facendolo alla mattina festuca che non germina soluzione solo aspettare marco dunque e beh sì sì ovviamente dipende da quanto tempo non germina comunque fondamentalmente la tecnica è quella di attendere mantenendo il terreno umido facendo le irrigazioni perché comunque l'acqua utilizzata controllando anche la temperatura dell'acqua ad esempio no io ho l'acqua di irrigazione a 13 gradi 13 14 gradi quindi da un certo punto di vista l'acqua di irrigazione era fredda e quindi io sto bene attento quando fare l'irrigazione per quindi la faccio il meno possibile per mantenere il terreno umido e nelle ore più calde della giornata quindi come come regola ok ciao maestro ciao roberto grazie ai tuoi preziosi consigli un prato veramente bello e fa piacere sono preoccupato per la notua lo scorso anno ne ho avute tante cosa fare con cosa posso iniziare a fare per evitare questi problemi è molto semplice allora la notua che cos'è le notu e le tipule e coleotteri e le pidotteri sono delle larve no che vanno a mangiare le radici del prato e creano veramente un grandissimo problema Roberto c'è un articolo molto approfondito lo faccio solamente per dovere di cronaca e questo è un articolo molto approfondito proprio dedicato agli insetti dannosi io scrivo insetti dannosi non mi è venuto fuori niente forse ho sbagliato di scrivere insetti guida completa zanzare in giardino eccole qua prevenire allora quello che dovete cercare nel motore di ricerca è questi qua gli insetti dannosi del prato ed è proprio quello che mi sta chiedendo scusate che non ero facciamo così che tanto no facciamo pure così è quello che mi sta chiedendo Roberto allora la strategia è molto semplice se tu hai avuto un problema è bene descritta in questo articolo devi utilizzare dei prodotti a base di metallizum anisoplie bovera bossiana che sembrano dei nomi di super roba chimica invece sono è una lotta biotica una lotta completamente naturale il prodotto da utilizzare si chiama fly lo trovi nello store di best creato te lo faccio vedere questo è un buon prodotto se non utilizzi questo prodotto o utilizzi dei prodotti della concorrenza alternativi quindi le cose di cui devi stare attento sono queste due qua quindi deve avere un alto contenuto di metallizum anisoplie bovera bossiana cioè 10 alla nona un miliardo di unità formative colonie per grammo io sono solito quando ci sono dei grossi problemi di questo tipo consigliare di fare un trattamento con questo prodotto una volta ogni tre settimane unendolo a un agente surfattante come l'water plus per aumentare l'efficacia e negli intervalli almeno e aggiungere anche un trattamento col bacillus turingiensis anche questo lo troverai nella descrizione nella descrizione nel blog nello store di best prato proprio basta scrivere bacillus dai te lo faccio vedere turingiensis non mi ricordo mai come si scrive però il bacillus sono queste pastiglie il culinex eccolo qua questo è un prodotto della copir può essere utilizzato può essere disciolta questa pastiglia in un trattamento di tipo radicale ad esempio magari quando si fa si fanno dei trattamenti di altro tipo con il tricoderma o anche con la boviera bossiana anche assieme al fly perché no non credo che ci siano non ci sono controindicazioni per quanto ne so io ciao fabio grazie alle tue indicazioni abbiamo un bel prato ma ci sono alcuni piccoli diradamenti allora per i piccoli diradamenti Francesca ho fatto vedere no? quell'articolo che che io io lo trovo nel blog di best prato no? semplicemente scrivendo qua impasto sembra un po' una cosa da ridere però è l'articolo che viene fuori per primo ti consiglio di utilizzare questa tecnica per andare a chiudere quei piccoli diradamenti che potrebbero essere occupati dalle infestanti ad esempio ciao fabio seminato x novo royal blue plus il 27 di marzo nonostante tutto friuli orientale sta nascendo abbastanza bene oddio che bene sono sono strafelice prossima settimana sono ancora in tempo per una semina localizzata sì però anche te Cristian mi raccomando non prendetevi dalla foglia cioè si capisce che un prato ha bisogno di essere risseminato anche localmente dopo sei sette otto settimane cioè vi assicuro che la sensazione fino a un mese e mezzo è quella di avere un prato spellucchiato in qualsiasi caso ti da sempre quest'idea ma in realtà poi si accestisce devi sapere devi pensare che un filo d'erba un piccolo filo d'erba un sottilissimo filo d'erba è in grado di andare ad occupare uno spazio che con il tempo diventa come quello di un pugno quindi capisci cioè un millimetro due millimetri che diventano sette centimetri quindi quando vedete i diradamenti quando vi sembra spellacchiato ragionate anche in questi termini certo ci vuole un po' più di tempo bisognerà poi fare le nutrizioni le stimolazioni e quant'altro però insomma questi sono i risultati che possiamo fare bene pollicioni abbiamo risposto a tante domande ma ce ne sono altre tante vedo veramente un disastro di domande allora siccome queste dirette durano 45 45 50 minuti che cosa facciamo facciamo così allora nel ricordarvi che nella descrizione di questo video ci sono tantissime risposte andatevi a vedere c'è un link di approfondimento con molte risposte ci sono una decina di risposte alle domande più comuni ti invito ad andare lì a vedere ma se invece vuoi la tua domanda al tuo quesito non ti preoccupare proprio quella che hai scritto quella che hai appena scritto nei commenti di facebook quella che hai appena scritto nella chat di youtube cosa devi fare prendi la copia incolli ctrl c ctrl v nei commenti sotto la descrizione del video su youtube solo su youtube quindi anche quelli che hanno scritto nella chat di youtube la devono copiare ed incollare nei commenti sotto la descrizione del video su youtube è una cosa semplice lo puoi fare anche tu che adesso stai facendo stai vedendo questo video su facebook e hai fatto la domanda in quei commenti perché non riesco poi domani mattina a sdoppiarmi per cui io generalmente faccio una unica sessione di risposte a tutti coloro che la scrivono se non la risponde in diretta a tutti coloro che la scrivono nei commenti del video sotto la descrizione del video su youtube pollicioni la puntata numero 260x si conclude qua come sempre ti ricordo ti ricordo di mettere un bel mi piace a questi video prendi considerazione di iscriverti al nostro canale attivando la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video dai un'occhiata ai link in descrizione scrivi le tue domande qui sotto e ci vediamo lunedì prossimo sempre alle ore 21 vi aspetto ciao a tutti buonanotte